SoftLab quest'anno partecipa a MADExpo di Milano, la biennale dedicata al costruire e all'abitare. L'occasione è anche propizia dal momento che con uno dei nostri software, segnatamente Hyperwallbeam, software per il calcolo non lineare di strutture in muratura e mister nuove ed esistenti, siamo tra i finalisti dei MAD Awards, i premi che Fiera Milano organizza in occasione di MADExpo. Hyperwallbeam è stato infatti inserito tra i tre prodotti finalisti nella categoria software e nuove tecnologie. Come tutte le nostre soluzioni software, si caratterizza per una grande libertà di modellazione, una certezza e precisione dei risultati e una velocità di calcolo. Le nostre soluzioni software sono strutturista oriente, nel senso che sono pensate e sviluppate su misura per le esigenze dello strutturista di oggi, lasciando appunto al tecnico progettista le scelte strategiche, perché pensiamo che il software sia uno strumento e non debba in alcun modo sostituirsi al progettista che è colui che è chiamato a fare le scelte di progettazione. Proprio per questo le nostre soluzioni non si concepiscono come delle scatole chiuse, ma come dei veri propri mondi dove il progettista può esprimersi e compiere una varietà di scelte. Le nostre soluzioni abbracciano tutta una serie di materiali, dal cemento armato all'acciaio, dal legno alla muratura, con una serie di moduli integrativi. Una delle cose che ci ha sempre caratterizzato e della quale siamo particolarmente orgogliosi è l'italianità delle nostre soluzioni. Dai solutori alle librerie utilizzate, tutta la tecnologia di SoftLab è totalmente homemade. Garanzia di sicura qualità, affidabilità e anche originalità. Grazie per la visione!